Stavo girovagando per la mappa quando mi iniziano a sparare e allora entro in panico, mi riparo in casa e ringraziano signore che il gioco ha migliorato la velocità nel piastrarsi decido di ripararmi e mirare come un figlio di puttana quando entra un nemico, noto la morte con gli occhi, decido di che cosa faccio, capisco di averla presa in culo tra qualche istante a maggior ragione quando vedo l'odio negli occhi di questa donna nonostante tutto, nonostante il pompa, non ha le mani quindi sti graccazzi, guorpiva sto nella panza e guapun de cor